Antonio Tiberio, presidente dell'Arci di Pescara, ricorre il quarantennale della scomparsa di Pierpaolo Pasolini e anche a Pescara volete ricordare questo grande scrittore? Sì, giustamente ricordare e non solo commemorare. Vogliamo provare a stimolare la cittadinanza in un dibattito sull'elaborazione di quello che è l'ascito politico e culturale del grande intellettuale italiano del Novecento, di Pierpaolo Pasolini, cineasta, giornalista, scrittore, poeta e proveremo da partire dal 2 novembre, con la data delle ricorrenze e i successivi sei mesi a seguire, a confrontarci con i nostri soci e con la cittadinanza attraverso una serie di iniziative per provare a rielaborare qual è il suo lascito. Per queste iniziative avete organizzato degli eventi anche in collaborazione con il Comune di Pescara? Sì, iniziamo il 2 novembre con la proiezione del film Fatti Corsari al circolo Meiz di Pescara in Via Nazario Sauro, che sarà poi comunque il punto di riferimento di tutte le iniziative cinematografiche di proiezioni che faremo sul tema. Il tema che andremo a affrontare, proveremo ad affrontare, è quello dalle borgate pasoliniane ai nuovi ghetti metropolitani, quindi una serie di presentazioni di libri e proiezioni di film che si ricollegano con la poetica su questo tema molto ben approfondito da Pasolini. Insieme al Comune di Pescara, all'interno del Festival delle Letterature, giovedì 5, ci sarà un importante cammeo, invitiamo tutta la cittadinanza a seguirlo, anche perché lo annuncieremo dopodomani nell'insieme del cartellone del Festival delle Letterature. Grazie a tutti.